Grazie Per il penultimo tenersene un colo dopo di voi Adesso la fila si diceva 5-3-2-1 5-3-2-1 Santrino 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 Forza che mancano solo 3 giri Via Bravo Ale Dai Ale vai adesso vai Grazie 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 La balanza! Buongiorno, ecco qua, siamo l'ultima gara del programma. Buongiorno, ecco qua, ci sei maschi e femmine, 10 giri per voi, ragazzi, attenzione, il caso di cattivo tempo, il caso di pioggia, sentirete la campanella al portaggio. Occhio a quelli che ti partono davanti. Non funzionano. Ma non l'avevi mai vista a questo giro di nozze. No. Buongiorno, buongiorno. Alla categoria superiore, vale a dire, alla categoria di ovviamente del mondo. Bravo ragazzi, così ti piace. Durante hanno cantato il piloto, di cantare la musica. E questa è ciò che noi piacciono a discutire. Non mollare, Nicolai, stai su. Non mollare, non mollare la pedalata. Non mollare la pedalata. Stai su, Nicolai, stai su. Non mollare la pedalata. Micoli, risparmiate un po' C'è le ginocchia troppo aperte. 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 C'è le ginocchia troppo aperte.